Il testimonial è d'eccezione, lo scopo ambizioso. Il campione di nuoto Filippo Magnini scende in campo contro l'obesità infantile per sensibilizzare bambini e ragazzi sull'importanza di una corretta alimentazione nella vita quotidiana e durante l'attività sportiva. Il progetto si chiama Vinci in Salute e si propone come un programma di educazione alimentare e di corretti stili di vita a cura dell'Associazione Italiana Arte, Sport e Cultura, in collaborazione con Italmaker, Accademia dei Piccoli Inventori e l'Associazione I am Doping Free. L'iniziativa ha preso il via a Roma e coinvolgerà in tutto circa 5.000 bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di diverse regioni italiane. Grazie al mio sport ho raggiunto tanti risultati nel nuoto ma ho raggiunto anche una certa popolarità quindi di essere un esempio non solo in basca ma anche fuori. Quindi la mia vita per 27 anni comunque lo sarà ancora appunto al segno della salute, dello star bene, del movimento, del mangiare bene quindi ecco voglio provare a portare la mia esperienza, quella che è stata la mia vita da piccolo e ancora adesso, ancora oggi alle nuove generazioni. Prima tappa all'Istituto San Francesco di Torregaia nella capitale, un incontro in cui i bambini hanno imparato la piramide alimentare e alcuni esempi del saper mangiare sano ed equilibrato. Il nostro robot Piri è un robot che comprende dei comandi attraverso dei colori quindi il set di istruzioni che noi utilizzeremo su una scacchiera saranno dei comandi che vengono impartiti dal robot. Il robot si troverà sui vari alimenti e i bambini decideranno quali alimenti sono buoni o cattivi da mangiare. L'Italia, infatti, tra i paesi europei con i più elevati livelli di obesità infantile, il 21% dei bambini tra i 6 e i 10 anni è in sovrappeso e quasi il 10% sono obesi. E poi c'è l'allarme sedentarietà con poco più di 3 bimbi su 10 che svolgono un livello di attività fisica raccomandato per la loro età. E' ben un 40% che trascorre più delle due ore consigliate come tempo massimo davanti ad uno schermo, numeri che fanno comprendere l'importanza di un progetto simile. Ricordiamo che oggi abbiamo i nostri bambini, i bambini italiani sono i bambini più obesi d'Europa, quindi bisogna assolutamente intervenire. Il lavoro principale va fatto soprattutto a casa perché devono, in qualche modo i genitori, rappresentano il modello per i bambini. Quindi per sapere essere i bambini hanno bisogno di, in qualche modo, ricevere dei messaggi coerenti che sì, vengono confermati poi assolutamente a scuola. Vinci in salute più che un'iniziativa, uno stile di vita.